Siamo con Luca De Simone al Palazzo Genovisi per la mostra 148-210, una mostra che è durata dal primo al 3 aprile 2016. Buonasera, questa mostra affronta vari temi, varie tematiche, un lavoro di un anno e mezzo, un anno e mezzo di ricerca in cui ho ripreso questa tecnica dell'acquerello. Sono 20 pezzi tutti quanti ad acquerello di diverso formato, 148x210 è appunto il formato sul quale lavoro, è un formato piccolo, un formato A5. Questo lavoro dietro di me ad esempio è uno studio sulla possibilità di moltiplicare lo spazio per ottenere opere di grande dimensione. Inizialmente le prime quattro opere erano uno studio sull'acqua, sull'imprevedibilità di alcuni fenomeni del colore sulla carta e all'interno della superficie bagnata. Queste opere sono state chiamate places. Poi c'è una serie che sono i friends, che sono animali, animali che per suggestioni o per possibilità di espressione sono andato a rappresentare. Terza serie sono gli elements, elements anche questi sullo stesso formato, il 148x210 che poi è anche il titolo della pagina Facebook con i miei lavori e sono diversi soggetti, dal papavro al delle montagne, alcune di ispirazione, le montagne ad esempio i giants sono di ispirazione di un fotografo di origine austriaca che è Joseph Hofflener, così come questo è di ispirazione da uno scatto di Michael Kenna. C'è questa ricerca minimalista, quindi una minima espressione, togliere quanto più possibile il disegno e far apprezzare l'oggetto in base alle proprie geometrie. Non lo so, non sono previste altre mostre, anche perché non vorrei ripresentare gli stessi prodotti. Io studio architettura, quindi per ora continuiamo con questo, nel tempo libero riusciamo a ritagliarci degli spazi per dedicarci a questa che è sostanzialmente una passione forte e consolidata, però resta una passione. Grazie a tutti.